Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dal vostro Draven Com'è Andrea, Tony, cioè Hawk, Tony, Alessio e Leo, salutate Ciao ragazzi, bella! Ragazzi, con theater, al solito, eeeeh, lasciatemi maestro Prendo mira Eh, sì, va bene, va bene, va bene, va bene, abbiamo quattro fili spinati, e perché Capcan, Andrea? Perché? Perché, perché hai sbagliato Capcan? No, 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 non ci ho mai visto usarlo, è quello il problema In realtà è una formazione abbastanza pesante, perché Andrea dà fastidio con le trappole, io con il maestro in teoria dovrei fare qualcosa Da fuori c'è una montagna, su Blosspot Oh, no, corre Oltre due veficce all'interno, Gol Eh, mi hanno bucato il mira Sto bruciando una narghile Due regole Sì, da narghile Finestra VIP Buon Ale Montagna e narghile, qua, sì Fatto il secondo Twitch, non hanno più Twitch Grazie, l'ho messo male, eh, l'ho chiuso Vado alla bagna Regà, tre in una bomba non va bene, vai nell'altra Capcan Travora Preso la mina, preso la mina, doppia mina Raffaele, sono scappato, sono scappato, sono scappato Cent'uno qui 10, eh Sì, lo so Rosso, rosso VIP, rosso VIP, raga Ti capri, ti capri Ok, ok Oh, che bello spot, questo Merda Sulle scale, sulle scale Sulle scale Andato giù Si è buttato giù Ora la scale è bassa Se passa in rosso lo vello Sì, non ve la torretta Ok, dimmelo Davanti alla porta Davanti alla porta Credo Scusa, arriva di qua, raga Attaccano dietro Buona, Tony Ancora rosso, ancora rosso Vai, vi ho dato un po' di tempo C'è sempre uno dietro, eh Dimmi quando ti pusha, Tony Che c'è la smoke Vatti ora Lo sento, lo sento qui Dal mira, mi ha sparato in warbang, Tony Ce la fai a arrestarlo? No, perché c'è uno da rosso È entrato, è entrato, è entrato, è entrato È entrato, da me, da me È dietro 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 Buona Buona, 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 buona Raga, buona, buona Madonna sto maestro qua Che potenza Scusate se non vi ho aiutato All'ultima fase Ma avevo Twitch davanti Dovevo bloccare lì Però sto pensando ad uno spottino Della torretta di maestro Leo, che tu hai fatto i buchi in basso Io l'ho messa nel langonino della bomba E vedevo praticamente porta di corridoio rosso Da lì che stavo dando fastidio Ma se la metto direttamente in bagno Lì sotto mi faccio fino a VIP C'è tanta roba Termite, termite Vado io, termite No, vado io, Leo, Leo Vado io, termite Madonna, ragazzi Vi mangerei la testa, ve lo giuro Vi mangerei il cranio Vi mangerei Però facciamo subito a scegliere l'operatore Raga, non ci perdiamo in chiacchiere Da botola C'abbiamo Ying Gli rompiamo i jager Rallaccia Ying È rischioso però, eh È rischioso Sì, ma se la metto il pulso sotto si può pure fare Anche da finestra si può fare Spera che ti trono Ok, Ale È libero, cucina È uno qua su scala, Agile Hanno fatto la botola per droppare, Ale Dall'altra parte Ragazzi, allora Bomba Dove è Baramba? In bomba c'è il Capcan dietro Dietro l'armadio E c'è il Mira dietro al Mira Quindi, teoricamente, se ci facciamo il Capcan Possiamo plantare da bagno E io sto dronando per capire se posso droppare Aspetta, devo Magari se becco qualcuno di granata è meglio C'è il Dici, Baramba Io sto dronando interno bomba Allora, dalla finestra ti fai quello dietro, dietro, dietro Qua Spot, spot, spot rosso, spot rosso Spara, 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 spara Te lo fai Te lo fai un buono dalla finestra Dalla finestra e dietro l'armadio Ho una candela pronta, raga Posso... Buona Aspetta, aspetta Ho una candela, Leo Da dove? Da dove? Scalegar di lei Eh no Vai, vai, planto, 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 planto Coprite, coprite, coprite Planto È la da dietro? Dietro il mira? Buona ragazzi Buona 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 così Buona Come attaccare senza Art Breacher VIP Veramente, tanta roba Buona Bravi Voglio le medaglie Dove sono? Bravi, bravi ragazzoni Bravi Abbiamo fatto un gran bel lavoro Bella quella granata, Andrea Non c'è ticchi Eh vabbè Meno sicuro, per favore Non ero sicuro di farlo Di ucciderlo Però va bene, grazie Me lo concedete uno Spunky? No Dai Sì, vai Uno Sì Se sei sicuro di aprire Almeno una pick Mi prometti che non molli sul gunfight dopo Nel senso che non push Non continui a forzare Ah no, sì, sì, sì No, no, continui Devi continuare Quando la mazione devi pure uscire Devi continuare a uscire Raffa, non ce ne capisci niente Voi lo gioca solo fermo Il sacco il drone a mano Sta fermo dentro Ah, esatto Proprio Alessio Potremmo fare Spunkill Io faccio Spunkill dalla porta qua Te lo fai dal ladrio, capito? Tu esci dal ladrio E vai verso sinistra È più di quella che è piena Io esco dalla porta a fare servizio Raga, cercate di non morire, raga Che mi servono Mi servono anche un drone su Non mi laggare Un Dos Tres Quattro No, metto qua Uno Bella, Leo Nel montagna, raga, nel montagna Raga, vado sopra Qualcuno che mi supporta sopra Stavo Io provo a tenere Alba Alba, attaccano Alba Allora, io ho messo Ok, c'è uno in bar blu Uno in bar blu, raga È Ash È Ash in bar blu, eh Eh, non c'è lo spot Uno in security, occhio Security, raga Aspetta Guarda rosa, uno Qui Security, raga Ok, sta aprendo, sta aprendo Prendila da dietro qui Su spot, su spot Arriva, arriva, arriva Stanno plantando, eh What? Dove hanno plantato, raga? Ah, davanti Alba Alba il twitch Alba il push Alba il push del twitch È dentro kitchen Dentro kitchen Finestra Sto disinnescando Sto disinnescando Vai disinnescato A posto Ah, lol Lol Va bene Ma come lo fa GG Montagne GG Ma c'era il fumogeno Ma non li ho visti Nel fumogeno io non li vedevo Cioè io avevo la torretta Perché vede attraverso il fumogeno Non me li dava Non vedevo neanche montagne Termite Grazie, grazie Le ho però non ho sbagliato Main Main Termite Ok, va, prendiamoci sto 4 a 0 Io raffa ti stavo coprendo da fuori Infatti c'avevo lo scudo che stavo per uccidere Dove sono questi, raga? Eh, attico Attico, un theater Raga, occhio, eh Quando ho spaccato Sei riuscito a farmi Biliardo 1 C'è l'Ela Biliardo Aspettate che ho perso il drone Ah, ok Raga, lanciate Mi serve un toucher Giusto sotto la finestra Raga, ho hitato un maestro A livelli osceni Tony, fai wallbang Tony, fai wallbang Raga, drono VIP Vai, vai Aspetta che sto solo io però, raffa Ok, doppia C'è una doppia Doppia trappola in finestrone di VIP Doppia trappola di Frost È Frost È qua all'angolino Andre, è qua all'angolino Frost Arrivo, arrivo Arrivo a darvi una mano qua Vai, vai Sta ricaricando Stai, deve ricaricare Deve ricaricare Eh, ha ricaricato Occhio, Jäger Eh, c'è, c'è C'è, c'è C'è, c'è Presa Ella, presa Ella Presa Ella Eh, la f***e da solo Pilarcio libero Eh, stavo arrivando io Maestro L'ho chiamata, Tony Ma c'è la taffola, è vero Sì, sì, ho dimenticato Errore mio Dai Minaggia a voi Perché non abbiamo preso Viper, raga Avete girato da tutt'altra parte Ma frae, ero io dentro Prenda, no? Sono io dentro Poi sono uscito Dov'è? Io ti ho lanciato il touch C'era sul muro, ora Ricarico Pronto? Pronto al bridge? Esco VIP Aspetta che è un altro drone No, non ne ho Ok Aspetta, aspetta 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 Coprite flank Sì, sì, sì Vai Ok Spaccato Spaccato Dai, dai, bricio Dietro bomba Dietro bomba Me lo faccio con la nade Me lo faccio con la nade Non è Pronto, a destra A destra A destra Vai Lara Aspetta Raffa C'è un po' trivita Vai, ti copro Planta È qua dietro Preso Buona, buona, buona Ottima, Leo Gran breach qua Mi ho fatto bene Lo stavo ammazzando Io mi hai fregato la kill Però Bene, bene Ottimo Bravi ragazzoni Bravi, bravi, bravi 4-0 secco Easy peasy Mi è piaciuto Andiamo quanti punti abbiamo preso Oro 1 dovremmo averlo ripreso Manco per idea Perché mi mancano 30 punti Possibile Sì, 30 punti mi mancano per l'oro 1 Maledizione Dobbiamo riprendere sto platino Vabbè, vabbè, vabbè Tralasciamo la cosa Bene così ragazzi Quindi raccomando Lei che supporta questo video A questa serie Qui sotto come al solito Commentate Fatemi sapere la vostra Vi ricordo che in descrizione Trovate anche tutti i link utili Per i vari canali social E nulla Noi ci vediamo con il prossimo video Ciao Ciao